Vi prego, ascoltate cosa diceva Franceschini, attuale Ministro della Cultura, nel 2011. Dire di no a un voto lo stesso giorno, il 15 di maggio, per amministrative e referendum, quindi dire di no all'Election Day, significa buttare dalla finestra almeno 300 milioni di Euro, in un momento in cui le imprese e le famiglie italiane sono in grande difficoltà, e unicamente per impedire che il referendum sul legittimo impedimento raggiunga il quorum per la validità. Ci rendiamo conto o no che questa gente ci prende per il culo da anni? Cioè quando era Berlusconi a non voler accorpare il referendum alle elezioni amministrative, questa falsa sinistra andava in Parlamento a denunciare lo spreco di 300 milioni di Euro i soldi nostri. Oggi che Renzi fa la stessa identica cosa e per affossare il referendum sulle trivelle, appunto ha deciso di non accorparlo alle elezioni amministrative e stanno zitti. Oggi Franceschini sta zitto perché è ministro, fa parte dello stesso governo, nel 2011 faceva il fenomeno, oggi tace. Questa è una vergogna incredibile che sono soldi nostri. 300 milioni di Euro sono tanti, tanti soldi. In un momento drammatico, oggi è drammatico, pensate, vi do un dato. Il 63,4% dei pensionati italiani percepisce una pensione da meno di 750 Euro al mese. Quindi facevano comodo quei 300 milioni di Euro, per esempio, per dare una mano ai pensionati minimi. Non sia mai che il referendum possa passare. Io vi imploro di diffondere questa informazione perché dobbiamo andare a votare. Non possiamo dargli la vinta a questi cialtroni che per affossare un referendum ci fanno sprecare soldi nostri, sprecano denari nostri. In un momento in cui i pensionati, ditelo ai vostri nonni, ai vostri padri, alle persone che conoscete che percepiscono delle pensioni davvero da fame, diteglielo, raccontateli che per colpa loro i soldi degli italiani vengono sprecati e fondamentalmente stanno combattendo la democrazia perché vogliono affossare un referendum. Io vi chiedo questo, di diffondere questa informazione.